come volo no gucci da maniera di gucci no odoo si bravo bravo ciao ragazzi qua ZTV bentornati sul mio canale quest'oggi per l'uscita di FIFA 22 ho detto odoo voglio fare una sfida a premi con te e lui mi ha detto si bro va bene facciamola ma cosa si vince? si vince tutti compro FIFA 22 ah si subito così? partiamo così ragazzi questo video in cosa consiste? ci saranno delle sfide da fare fine calcistiche perchè ad esempio lì in fondo ragazzi c'è la barriera quindi ci vedrete un po' sulle punizioni e soprattutto vedrete mister odoo è per quella che ti ho detto che si vince tutti compro FIFA 22 vinco io bro intanto iscrivetevi al canale e fatemi sapere con che squadra avete iniziato la carriera di FIFA 22 mi raccomando importa c'è anche mister come volo perchè se no ogni tiro di odoo è gol e poi mi tocca spendere troppo facciamo spendere odoo un pochino parto io ti faccio ti propongo io la sfida poi me la provi tu vai vai come vuoi allora odoo se fai 5 punizioni e mi fai almeno 3 gol su queste 5 punizioni ok ti porto a mangiare una pizza partiamo piano ragazzi vai odoo tocca a te ok 5 possibilità di fare 3 gol vado vai la pizza è tosta odoo secondo tentativo attenzione odoo cr7 aia la pizza si allontana odoo odio ma c'ha fatto là no vabbè raga qua veramente c'è possiamo possiamo dire poco qua possiamo dire poco era nel 7 odoo mi dispiace ma è la pizza più sofferta di sempre allora la pizza mi dispiace ma dobbiamo aspettare certo un'altra volta per un'altra volta adesso però forse forse non ho voglia di mangiare pizza per quello ah va bene devo cambiare premio allora dopo allora fra dai ragazzi adesso facciamo eh tocca a me adesso tocca a lui adesso vai se lui fa 2 gol su 5 compro fifa 22 ah l'ho detto adesso qua eh se lui fa 2 su 5 non 3 ma di punizioni su punizioni è una sfida su punizioni se fai 2 su 5 ti compro fifa 22 fifa 22 per ps5 ah si dai è il mio turno fra ok vai di marco uh barriera secondo tiro vai ah lo volevo fregare non volevo fregare aspetta nooo mamma mia nooo mmm manca due tiri eh se fai questi due tiri ti compro se ne sbaglio uno si fa 21 si 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 nooo 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 mi piace 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 hai provato bravo bravo hai provato hai provato hai provato così nooo allora mettiamo la barriera di qua si così proviamo sempre a giro a giro di destra a giro di destra puoi fare anche di sinistro come vuoi allora ti faccio una sfida tocca a me si io ci sono andato molto vicino ok facciamo un'altra sfida la a cambiare piedi no diciamo a cambiare io di sinistro zero ah ti faccio una sfida se fai almeno un gol su tre tiri ok di sinistro si ma sinistro e punizione fra allora ne vale la pena per quello che ti dico se fai almeno un gol di sinistro su tre tiri ti porto da gucci e ti faccio scegliere quello che vuoi dici a me piace gucci eh eh fra va bene va bene una pochette va bene va bene dai non mi fa spendere troppo no serie di sinistro vado vale una pochette di gucci eh vado tre tentativi no mamma mamma non mi fa prendere questo infarti tu oh serie capito che te l'ho presa bro secondo tiro per Odu no 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 ma chi è che è stato 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 chi è che è che è stato chi è che è che è la colpita qua chi è stato serio è lui ahia è stato lui allora ragazzi seguiteci su instagram o duamadi 90 perché ragazzi metteremo le storie che andiamo da gucci perché ci dobbiamo andare veramente fra io sono onesto io sono onesto eh lo so lo so bro e hai vinto veramente una pochette di gucci mamma mia che culo però hai avuto un culo ammettro che quanto l'hai pagato quello in barriera lì? quanto l'hai pagato? no perché sai quando ho preso quando prendo questa gucci anche lui forse un'altra settimana ah quello in barriera allora odio dai tocca a me adesso dai che sfida mi fai ti compro faccio un'altra sfida con te sì e ti compro di square di square? eh cosa devo fare? un chat di square fai gol con mancino con mancino raga è impossibile no no è impossibile facciamo di destra di destra dai dai ragazzi e faccio un'altra sfida con lui due su cinque di destro? no uno uno? di square? si si di square se lui fa un gol di destra da qua ti regalo un'alletta di square proviamoci raga ci sono bro una su cinque di square nooo mamma mia ma bro ma ce l'avevo messi d'accordo io e te ce l'avevo messi d'accordo si però odio allora e tu fai deviazioni e me fai questi miracoli arriva fra no no ti sei spaventato ti sei spaventato no no era bella eh era bella era bella era bella questa tre su cinque hai visto di square? Brava! Ed è la maglia di disquerno Sè cazzo Bello questo Ragazzi ho insegnato lui come ha cacciato questo Sè Oh dude questo Vale proprio disquerno Mamma mia tanta roba Mi piace questa gomma Mi viene emozionato Mamma mia Perché oh fra tutti si è messo lì Mi ha detto Una cosa con calma Con calma Passo per passo Con calma Vedi dove metti la palla E caccia Con calma Adesso ti do una sfida io Se fai due gol su cinque di destro Ti compro la nuova Xbox Si Ci sta Non ce l'hai? Non ce l'ho quella Andata dai Primo tiro Si Si Sera ti prego I miracoli voglio Oddio Si Sere Si Sere Si Sere Sere mamma mia Quarto tiro per Oddio Vai Sere Mamma mamma Dai Oddio No no lasciala lì l'Xbox Dai Oddio Lasciala lì quell'Xbox No Sono salvo Mamma mia ragazzi ho provato Sono salvo Oddio Sei salvo bro Uno su cinque non basta per l'Xbox nuova eh Non basta non basta Ti faccio una sfida più difficile ancora Vai Mettiamo in palio questa volta metto in palio Un cappellino di Versace Ok Ti piace? Si Però metto in palio questo perché è una sfida difficile La vedi quella mini porticina laggiù? Quella là Devi fare un gol su cinque tentativi Provo Provi? Si Oh c'è un cappellino Versace eh Oddio cinque tentativi eh Oh c'è un cappellino Oh c'è un cappellino Mamma mamma No No Eccolo Eccolo Carone Hai tratta? Si Grande Cinque rigori Tirerà tre rigori Oddio Due rigori io Se ne pari almeno uno 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 Lo paro subito il primo Se ne pari Se pare uno Regaliamo lui FIFA 22 FIFA 22 Ce l'ho già a casa Fra uno devi prenderne Aspetta sto chiamandomi fratello Si vova Accendi la play che sto mettendo il gioco Uno Fra uno Uno Tiro tre Due Due Si Oddio Al primo Quasi Attenzione Mamma raga Io già inizio a spaventarmi Perché Dopo toccheranno le mie due Aia Oddio Grande il tuo l'hai fatto Adesso tocca a me Tocca a te Un consiglio sul rigore Sai cosa devi fare Uno Aspetta alla fine Guarda lui Guarda E poi Tacca Dai Oh Col brivido Occhio Manca l'ultimo Si Fragile Fragile del mondo Vai Allora diciamo che ne usciamo tutti vittoriosi perché chi per qualcosa che per qualcos'altro Siamo tutti felici Un gelato da versace Un gelato da versace Un versace e un gucci mamma Dio di square Ragazzi Allora Tutto anto Di square Do due Allora Ragazzi Fidatevi che queste cose qui le vedrete sui nostri instagram Appena ci capita che abbiamo un momento libero andiamo a fare shopping E lo vedrete sui nostri profili instagram Quindi Zv.jackson Sergai.gk O domani 90 O domani 90 Ragazzi io vi saluto Andiamo a registrare altre sfide Iscrivetevi Seguite su instagram e su tiktok Ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi